Vai Sofìa, prendi un saluto, hai preso? E che brava Sofìa! Allora, correranno, faranno scappare la madonnina, Proietti Fausto, e facciamo il sangue, e facciamo il sangue di Sant'Angelo Antonio. Appena sorteggiata la quadriglia, nessuna new entry, tutti con esperienze, cominciamo con Fausto Proietti, sempre un'emozione essere sorteggiati. Sicuramente è sempre un'emozione, per me questa è la settima corsa, quindi ogni anno ha un'emozione diversa, ogni anno con persone diverse, quindi sempre divenne persone diverse. Sono un po' emozionato, si vede, anche se è la settima volta, ma sono emozionato. Per Antonio Sant'Angelo invece si tratta della corsa numero? Io lo seguo perché è la sesta, e comunque, come diceva lui, confermo che l'emozione non la si può descrivere, perché la si capisce solo se uno questa cosa la vive intensamente. Anche quest'anno abbiamo cambiato la quadriglia e abbiamo sorteggiato con due ragazzi e siamo contenti di questa cosa. Abbiamo l'onere e l'onore, domenica a Pasqua, di rappresentare la confraternita e quindi di fare le cose al meglio. Avere esperienza, tutti e quattro, può giovare sicuramente nella buona riuscita della corsa, è vero? Sì, sì, questa per me è la seconda corsa, oddio, l'emozione è tanta, e bisogna provarla proprio per sentirla. Non ho parole, guarda. Invece per lei si tratta della corsa numero? La seconda corsa, per Accia Alessandro, è un onore partecipare a questa manifestazione, rappresentiamola confraternita e cercheremo di fare del tutto per portare al meglio questa manifestazione. Con tutto il cuore ringrazio la mia famiglia e mando un bacione al mio figlio Marco e al mio figlio Pietro.